Questa è la quarta parte che vi metto mai dentro Se però dobbiamo andare un po' qua Per prendere il loro bari Farò un piccolo taglio fino a che non l'ho provata Per chiarezza l'aria è questa Rega ho tirato un po' voi qua Molto bene Lo allenerò una volta Credo la vera Prendere il bar Prendere il bar Vediamo Lui Prendere il bar Ma io ho paura di sciottarlo E' il più raro C'è nessuna vita Non è Sto potre Sto potre 5 minuti Sto potre E' il bar Giusto Però sto qua adesso 5 minuti io ve lo dico io ve lo dico io vorrei tanto e la resta te la vogliamo fermare te la vogliamo fermare te la vogliamo fermare te la vogliamo fermare si le vogliamo fermare mettiamo bene nel caso questo è stato fermo non l'avrei chiamata la letta no visto che è maschio lo chiamerò Maxwell questo è maschio questo è maggiore Maxwell e l'avrei e lo faccio e lo faccio devo farlo Sì, non si è. Sì, non si è. Ok, ok. andiamo di Maxwell e andiamo a farci la torre Bell Sprout che è la volta che ho detto del gioco però vabbè poi ci serve anche contro la palestra quindi l'ho preso proprio apposta e poi la torre Bell Sprout è troppo visto che ci sono troppi e dico troppi come un verbo Sfighiamo il primo allenatore di questa parte molto bene se non mi sbaglio si deve rifogliere al 14 Ah Statico, ho beccato Godo, ho beccato Maricolo Statico Godo che sedere che sedere, che sedere è bellissima Maricolo Statico questo è un bel sport è bellissima Maricolo Statico ma bella, di giù si deve rimaricolare in Statico oh raga, sta, esco una salita di livello giornata dopo e loro avranno tutto e speriamo che apprenderemo una mossa elettora prima possibile tanto loro hanno solamente riscato a questo livello Paralisi ma vai, ma vieni Statico ma vieni ma vieni 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 ho con e nel quindi non troppo e poi le mostro tutto questo mentre c'è un mazzo del no però comunque ci va fatica attorno di noi non ho proprio il gioco nemmo adatto per questo niente sempre prendersi una roba che non è per nulla male allora raga io faccio un taglio e mi vado a curare già due, adesso mi segno di sto partendo, vedrò in due parti raga un attimo taglio e vado a curarmi raga ho curato il Pokémon quindi possiamo andare allora la prossima parte però io non me la ricordo è la parte di più vabbè ci sta però vabbè mi ricordo la commissora un allenatore seconda lotta del giorno e saranno molte lunghe vistevano il bel ecco non c'avevo voglia di mettermi giù perché l'ho già usata giù vabbè quello vabbè non ho usato invece Mert non ho usato non ho usato perché non ho usato 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 ma non ho usato 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 ma non ho usato ma non ho usato 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 ma però non ho usato non ho usato non ho usato l'elettro però ci stanno ma ci stanno tantissimo non ho usato non ho usato non ho usato ma non ho usato non ho usato non ho usato arda ce l'ho non ho usato ma non ho usato ma marcia ma il a 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